E' stato sbalzato fuori dalla sua auto una Volkswagen Golf a bordo della quale viaggiava sull'autostrada Catania-Siracusa. Per causa ancora in corso di accertamento, questa mattina un uomo ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la guardrail. Trasportato ad urgenze nell'isocorso all'ospedale Cannizzaro di Catania sarebbe in gravi condizioni. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Siracusa che hanno effettuato i rilievi lunghe code in direzione Catania.